Primus CAD è un CAD professionale DVG nativo. Infatti, in fase di apertura, il tipo file proposto è proprio DVG. Naturalmente è possibile aprire anche DXF, DVF, DVT. Non vi è nulla da importare o convertire. Anche in fase di salvataggio, il tipo file proposto è DVG, oltre alle altre tipologie. Apriamo proprio un disegno nativo DVG realizzato con un altro CAD. Notiamo che non ci viene chiesto di importare o di convertire nulla. Troviamo i layer e le relative funzioni ed opzioni. I colori. Le linee. Possiamo personalizzare gli stili di linee, oppure importarli attraverso file.lin creati con il CAD in uso fino ad oggi. Scegliere gli spessori e visualizzarli con lo specifico bottone della barra di stato, dove troviamo tutte le classiche funzioni di un CAD. Trattandosi di un CAD, è possibile disegnare qualsiasi cosa utilizzando gli strumenti classici, come ad esempio linee e polilinee. I comandi sono richiamabili anche attraverso la barra di comando. Anche le immagini raster possono essere importate e lucidate con gli strumenti del CAD, per ottenerne il computo. Con Primus CAD possiamo disegnare qualsiasi cosa, strade, sistemi impiantistici ed altro. Primus CAD è un CAD DVG professionale completo, con in più il computo integrato. Ciascun elemento, ad esempio linea, polilinea, può rappresentare un'entità computabile e assumere diversi significati in relazione a ciò che il tecnico sta disegnando, progetto architettonico, stradale, fognario. Ad esempio, una linea può rappresentare pareti, marciapiedi, strade, fognature ed altro. Per ottenere il computo metrico estimativo dal disegno, basta associare le entità grafiche alla voce di elenco prezzi, acquisita da un qualunque documento di CF. A questo punto, basta semplicemente definire la formula nel rigo di misurazione. Specifici agent propongono formule adeguate ad ogni circostanza. L'operatore deve solo scegliere da un apposito archivio. Possiamo anche definire righi di misurazione in detrazione. Già in questa fase possiamo rilevare l'importo totale del computo, modificare singoli dati delle voci di elenco prezzi già computate. Sostituire la voce di elenco prezzi già computata, con una voce diversa attraverso il drag and drop Sostituisci. Attraverso il pannello Primus DCF possiamo verificare la corrispondenza tra l'entità disegnata e i righi di misurazione contenuti nel computo. Selezionando il rigo di misurazione nel computo viene selezionata l'entità corrispondente sul disegno. Alla modifica del disegno corrisponderà l'aggiornamento dinamico del computo. Attraverso il semplice drag and drop possiamo trascinare le voci di misurazione da Primus CAD a un qualsiasi documento di Primus. L'intero computo può essere salvato nel formato DCF e rielaborato, integrato e stampato con Primus, Primus Progetti o Primus DCF. Il computo può essere generato da un disegno di VG realizzato con Primus CAD, da un disegno di VG o di XF generato da altri software o sulla base di immagini raster lucidate con le entità grafiche di Primus CAD. Tutte le informazioni presenti nel disegno, entità grafiche e dati di computo vengono salvate all'interno dell'unico file DVG. Il DVG così generato può essere aperto e gestito da qualsiasi software compatibile con questo formato. Solo se aperto con Primus CAD sarà possibile visualizzare e gestire anche il computo. Primus CAD garantisce la reale integrazione di due mondi che fino ad oggi sono stati separati. Il disegno e il computo. Nasce il disegno computo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.